Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La prima persona deceduta nel tragico crollo del cantiere dell'Esse Lunga a Firenze è stata identificata come Luigi Coclite, un esperto operaio sessantenne di origini abruzzesi, ma residente a Colle Salvetti, provincia di Livorno, da diversi decenni. Coclite, impiegato presso una ditta di Santa Maria a Monte, è stato travolto insieme ad altri lavoratori da una trave di cemento che è crollata sul solaio in cui si stavano svolgendo i lavori. Nato nel 1964 a Teramo e originario di Montorio Albomano, Luigi Coclite lascia due figli, un maschio e una femmina, che vivono con la madre a Bicarello, frazione di Colle Salvetti. La moglie si è recata sul luogo del cantiere dopo la terribile notizia dell'incidente. L'uomo stava lavorando con un gruppo di circa otto operai quando il crollo della trave portante ha innescato il cedimento del solaio superiore, travolgendo tutto e tutti. La comunità di Colle Salvetti, dove Luigi Coclite era residente da oltre trent'anni, è stata fortemente colpita dalla notizia della sua morte. Era una figura molto conosciuta e rispettata sia nella città toscana che nella sua città natale abruzzese di Montorio Albomano, dove tornava spesso a visitare parenti e amici. Al momento, non sono state rese note le identità delle altre vittime del crollo a Firenze. Oltre ai decessi, l'incidente ha causato il ferimento di tre operai, originari tutti della Romania e di età compresa tra i 37 e i 51 anni. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Careggi, nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Tuttavia, si stanno ancora cercando sotto le macerie due persone disperse. Grazie. Grazie a tutti.